Se mi chiedi chi è la ragazza per me, Angela, io dico a te. Se mi chiedi chi è la ragazza per me, Angela, io dico a me. Se mi chiedi chi è la ragazza per me, Angela, io dico a me. Ma cosa vuoi da me, se oggi che il caffè c'è come rispetto la mattina, penso ad aggela. Ma se ora mi dico, ma se ora mi dico, ma con l'acqua me ne sto così. Ma cosa vuoi da me, se oggi che il caffè c'è come rispetto la mattina, penso ad aggela. Ma cosa vuoi da me, se oggi che il caffè c'è come rispetto la mattina, penso ad aggela. Amore, amore, io avrò cura di te, ma non come quello di frango battiato la cura, a chiacchiere, no, Angela. Io pagherò, pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno. Perché le malattie arrivano, ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, saremo in due a curare le due malattie. Saranno l'ora di averla vinta su di te e tu non dovrai mai tenerle, mai, mai, o mi è bella. Ma cosa vuoi da me, se oggi che il caffè c'è come rispetto la mattina, penso ad aggela. Ami solo me, sposi di con me, che il viaggio di notte io ti porto all'ossangela. Grazie. Grazie.